Mi presento, sono Laura Drappo dell'azienda agricola Falasco. L'azienda agricola Falasco è un'azienda familiare che opera nel settore dell'agricoltura e si trova a Casal Beltrame, nella cascina Falasco inferiore a circa un chilometro e mezzo dal museo agricolo. L'azienda è composta da 250 ettari e viene prodotto esclusivamente riso. La nostra azienda è il risultato del lavoro di almeno sei generazioni che negli anni si sono impegnate nella coltivazione del riso. Il ciclo produttivo del riso si compone principalmente di due fasi. La prima fase consiste nella fase della semina, cioè il momento dell'anno appunto in cui il riso viene seminato e questo avviene dalla metà di aprile circa alla metà di maggio. La seconda fase importante del ciclo di produzione del riso è la fase della raccolta del riso e questo avviene dalla metà di settembre fino alla fine di ottobre circa. La nostra azienda oltre a produrre e vendere direttamente i risi tradizionali quali per esempio il Carnaroli che è il riso tipico da risotti, produce e vende anche i risi cosiddetti speciali, in particolare il riso venere che è un riso nero integrale ed aromatico, e il riso Hermes che è un riso rosso sempre integrale ed aromatico che nasce dal venere e è un'altra varietà di riso. Fino a una decina di anni fa i risi speciali come il venere e l'hermes che coltiviamo e vendiamo direttamente erano poco conosciuti sia in Italia che all'estero. Ora grazie a piccoli investimenti in pubblicità e grazie anche al passaparola delle persone siamo riusciti a diffondere queste nuove varietà di riso. Le principali problematiche che si riscontrano nel settore agricolo per quanto riguarda un aspetto economico riguarda le condizioni atmosferiche, nel senso che la produzione o comunque il ciclo produttivo del riso dipende dalle condizioni atmosferiche. Infatti periodi di siccità, di piogge, di venti forti possono comportare una riduzione della produttività e dell'efficienza lavorativa e questo avviene soprattutto per quanto riguarda la coltivazione dei risi speciali come il venere e l'hermes che sono soggette a una maggior sensibilità per quanto riguarda le riduzioni o i cali delle temperature. Per quanto riguarda le prospettive future o comunque gli obiettivi futuri, speriamo di diffondere il più possibile innanzitutto queste nuove varietà di riso come il venere e l'hermes, ma anche i risi più tradizionali da risotto come il carnaroli. In Italia infatti il consumo pro capite annuo è soltanto di 5 kg a persona, per esempio nel resto dell'Europa come in Portogallo le cifre si aggirano sui 20 kg e per esempio spostandoci nelle località asiatiche in Cina il consumo medio pro capite annuo di riso è di 130 kg. Quindi speriamo appunto di aumentare il consumo anno anche in Italia.